Sindaco, oggi avete avuto uno dei primi incontri con la città metropolitana sul piano strategico e sulla possibilità di avere degli investimenti. Sì, oggi è stato il secondo incontro e veramente è stato estremamente interessante. Abbiamo riscontrato da parte della città metropolitana un grandissimo interesse verso i comuni. Questa è una cosa veramente che ci ha fatto piacere. Voi che siete più legati al territorio, quindi ai cittadini, perché i comuni sono il front office diretto con la cittadinanza, avete già qualche idea, qualche progetto che potreste suggerire per il piano strategico e per la vostra realtà? Sì, abbiamo già alcuni progetti. Uno per quanto riguarda una strada di collegamento verso Pompei che è molto importante, ne soffrisce tantissime persone, però è priva per esempio di marcia a piedi. Quindi è un bel lavoro da fare e con urgenza. Poi abbiamo degli impianti sportivi abbandonati o distrutti che vorremmo riqualificare in maniera diversa da quello che è il semplice impianto sportivo, ma facendo un impianto polisportivo anche da mettere in condizioni da farlo soffrire agli alunni delle varie scuole della zona. Lei è sindaco da poco. I precedenti non ci sono stati dei grandi rapporti di collaborazione tra comune e città metropolitana. Molto spesso in questi anni, soprattutto la conferenza dei sindaci ha visto scarsa partecipazione. Ritiene che questa partecipazione debba essere favorita, incrementata? Per un comune come quello di Bosco Reale che purtroppo mi è stato lasciato in una situazione debitoria assolutamente esagerata. Per il mio comune è essenziale questo rapporto. Per il mio comune è essenziale questo rapporto.